Blitz Antica Morra a Ponticelli nel rione Conocal con oltre 300 carabinieri impegnati nella cattura di 90 persone accusate di far parte a vario titolo del clan d'amico. I reati ipotizzati dalla DDA sono associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, estorsione, narcotraffico, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. I carabinieri hanno completamente circondato il rione dove, come mostrano le immagini, si spaccia mentre i bimbi giocano, mentre le signore rientrano con la spesa. Il clan gestiva le piazze di spaccio, il racket delle estorsioni, il commercio delle case popolari. Ci sono anche le donne boss tra gli arrestati nella maxi operazione che decapita il clan d'amico e De Luca Bossa. Tra gli arrestati, infatti, figurano Carla D'amico, che con la cattura dei fratelli Ciro e Giuseppe, con l'uccisione avvenuta nell'ottobre scorso della sorella Nunzia, aveva assunto le redini del clan. Così com'era diventata la referente dei De Luca Bossa, Anna, che si era ripresa dopo l'agguato in cui era rimasta gravemente ferita nel luglio del 2014. Nel gennaio del 2013 le avevano ucciso il figlio, Ciro Minichini. Anna De Luca Bossa è la figlia di Donna Teresa, una delle poche donne detenute in regime di 41 bis, madre del fondatore del clan, Antonio De Tosicco, che sta scontando l'ergastolo. Dopo l'arresto del figlio Teresa, convivente di Giuseppe Marfella, capo dell'omonimo clan di Pianura, aveva preso le redini dell'organizzazione alleata dei Marfella. Scettro poi passato nelle mani di Anna De Luca Bossa, altra donna arrestata è Anna Scarallo, nota pusher e moglie di uno degli esponenti di spicco del clan d'amico. Ora la camurra la facciamo noi, tanto Cernobil non ci sta più, ora è peggio, ci stanno le donne. Così parlava Annunzia D'Amico legata sentimentalmente a uno dei loro elementi di spicco, Salvatore Ercolani, detto appunto Cernobil mentre discuteva con un affiliato dopo che aveva preso in mano le redini del gruppo. La donna, madre di sei figli, fu uccisa una domenica di ottobre, il 15 dello scorso anno, intorno alle 13, un agguato inatteso nel suo rione, il Conocal.